Per contrastare il coronavirus, aiutando te stesso e la comunità in cui vivi, scarica Immuni, la app che ti avverte se sei entrato in contatto con qualcuno positivo al Covid-19, permettendo l'autoisolamento per non contagiare altre persone. Immuni è progettata con grande attenzione alla privacy e non raccoglie dati sulla tua identità o sulla tua posizione. Grazie.